Buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a provare in anteprima il fucile a impulsi del ride osso vibrante Innanzitutto premetto che non siamo con il mio profilo ma siamo con il profilo di Xtrimis che è un iscritto che ci ha gentilmente prestato l'account e che ringrazio veramente tantissimo E ora direi però di andare subito a vedere i perk di quest'arma Innanzitutto vi dico che si può droppare solamente con il glitch per andare a prendere la cassa del ride e appunto lui ha avuto la fortuna di droppare gli impulsi mentre io ho droppato il lanciaradi e il ride che ha addirittura un'armatura quindi è andata veramente peggio Andiamo subito a leggere i perk Abbiamo un taraglio leggero quindi un attimo maneggevole è stato esposti più rapidamente quando equipaggio quest'arma Tre tipi di canne, compensatore contenuto quindi un ancoraggio stabile per canna che aumenta la stabilità e controlla moderatamente il rinculo Calibro pieno, una canna ottimizzata per la distanza che aumenta notevolmente la gittata e riduce la stabilità e riducendo anche leggermente la maneggevolezza E rigatura poligonale, una canna ottimizzata per ridurre il rinculo che aumenta la stabilità Rigatura poligonale probabilmente è la meglio perché la gittata sembra poca quindi effettivamente anch'io inizialmente l'avrei aumentata Però la gittata in realtà così va benissimo, si lascia andare veramente parecchio e lontano e questa stabilità in più è veramente molto comodo Dopodiché abbiamo due tipi di caricatore Caricatore esteso quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente Aumenta quindi notevolmente il caricatore e riduce notevolmente la velocità di ricarica Proiettili invece rimbalzanti, i proiettili rimbalzano sulle superfici dure aumentando la stabilità e leggermente la gittata Meglio proiettili rimbalzanti non per il fatto che rimbalzino semplicemente perché così comunque possiamo già fare 11 raffiche Che sono tante considerando che quest'arma ha sciottato in 3 e comunque stabilità e gittata e velocità di ricarica fanno comodo Sistema di autofuoco, tenere premuto il grilletto permette di sparare in modalità automatica Sinceramente non lo uso E sotto pressione quindi aumenta stabilità e precisione al diminuire delle munizioni del caricatore Per random sistema di autofuoco probabilmente un pochino inutile Sotto pressione invece è molto comodo però andiamo subito a vedere come se la cava in partita Ok andiamo subito a provare l'arma, intanto vediamo che è un impulsi ad alta cadenza Sinceramente l'autofuoco preferisco non usarlo sugli impulsi poi maggiormente La gittata vi faccio vedere subito che è già grande, cioè non basta e avanza sinceramente Però io qui scapperei anche perchè ho visto giusto un po' tante persone Fa 25 danni in testa, adesso vorrei anche farvelo vedere Quindi sciotta in 3 raffiche in testa ovviamente E devo dire che non è per niente male, tra l'altro ho un dubbio che non ho controllato Ovvero se sia più forte o meno del discorso inaugurale Perchè sciotta comunque in 3 raffiche ma non so se la cadenza è maggiore Ci sono due tizze Ci abbiamo anche uno dietro, questo è il problema Fa veramente ragazzi molto male, mi piace pari di chi come arma Perchè comunque come sapete le armi ad alta cadenza mi piacciono molto in generale Tra l'altro è un'arma che assomiglia particolarmente al Requiem Che qui ho fatto veramente male, adesso vi spiego anche perchè Dicevo è un'arma che assomiglia anche parecchio al Requiem Perchè quest'alta cadenza si fa sentire E lì dicevo ho sbagliato perchè quest'arma ha anche un hipfire molto molto comodo Quindi se abbiamo un nemico da quelle distanze, bene o male di quelle che avete visto prima Conviene molto più sparare in hipfire che andare mirando, cercare comunque di essere un po' più precisi E ragazzi sta partita i nemici non ci sono Devo dire che ovviamente il suo maglio l'ho dato alle lunghe distanze Perchè comunque è un impulsi quindi ci sta anche Però questo va necessariamente accompagnato dal fatto di prendere sempre in testa Perchè se prendiamo sempre in testa shot è in tre raffiche Che è veramente molto poco se ci pensate la cadenza che è veramente parecchio alta Ecco vedete l'hipfire Ora non è che stia giocando chissà quanto bene Spero che la prossima partita riesco a recuperare Il caricatore ragazzi tra l'altro è da 11 raffiche quindi Oh amore Da 11 raffiche dicevo quindi molto molto ampio Si riescono a fare parecchie cose Non è morto uno che bello Fantastica questa fantastica vabbè Ovviamente ragazzi l'hipfire è buono ma Ovvio che bisogna mirare nel senso è molto meglio mirare Ah ma ecco perchè non ci sono i nemici Perchè sono quattro E' molto meglio mirare dicevo Ovviamente se vi trovate in situazioni molto vicine Quindi magari dovete per forza cercare di vincere il gunfight L'hipfire ci sta nel senso non è che Il fatto che io dico che l'hipfire è buono non è che significa che Dovete giocare solamente di fire Potete giocare solamente di fire Semplicemente Se ci fosse necessità L'arma ci rende il compito leggermente più facile Semplicemente questo eh Però comunque l'arma ci sta è buono Ovviamente essendo un impulsi Quindi essendo particolarmente forte nelle lunghe distanze Va accompagnata per forza da una metraglietta Perchè come avete visto dalle corte non è che sia Tutta questa forza Quindi si essenzialmente va accompagnata da un'arma con le corte distanze Quindi per esempio una metraglietta Una arma da supporto Tra l'altro c'è un'arma da supporto che spacca ragazzi Non ho giocato malissimo Non eccellentemente però Potevo fare di meglio Adesso cambiamo un attimo lobby E andiamo subito a vedere la prossima partita Comunque ragazzi vedete che l'arma potenzialmente è addirittura più forte del discorso inaugurale Perchè il discorso inaugurale ha 390 colpi al minuto E shotta comunque in tre raffiche Mentre questa pur facendo un po' meno di danno 6 di danno in meno per ogni proiettile Ha 450 colpi al minuto Quindi la carenza è decisamente più alta E shotta comunque in tre raffiche Quindi prendendo sempre in testa Potenzialmente addirittura più forte del discorso inaugurale Ok standard decaduto Vediamo un po' cosa riusciamo a fare Cerchiamo di giocare un attimino meglio di prima Aiaiaiaiaiai Ok Sed livellino Potremmo recuperare la vita Ok Questo qua l'abbiamo visto che Abbiamo shotta in tre raffiche Questo azzardo del lancio non so cosa sia Però qui avete visto diciamo la massima potenza di quest'arma E devo dire che non è male L'unica pecca diciamo è il rinculo forse Che non è chissà quanto Facile da controllare Dalle lunghe distanze diciamo che Si fa un attimino sentire Cacchio 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 Eeeh bomba nuova Fatelo quello Aiaiaia Eh vabbè qui l'ho un po' buttato Si aspettava un attimo di più Però il design ragazzi di queste armi è bellissimo C'è qualcosa di spettacolare E per quanto riguarda anche questo equilibrio Come ho già detto tra rinculo e agitata La fine è controllabile Si trova un attimino più di difficoltà ma Ci se la fa alla fine Comunque una piccola pecca è anche il fatto che il mirino Zoom abbastanza Non so se si possa troppare con I mirini non rollabili Però Insomma mi fa un attimino storcere il naso sto mirino Perché appunto ci leva a questa piccola Possibilità di mirare anche dalle corte distanze No 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 fuggi 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 Questo con sto pompa Oh se non prende le pesanti So che gli succede eh Ecco queste sono distanze troppo lunghe Non ce la si fa Ora non sto giocando in realtà chissà quanto meglio di Della partita scorsa Però Boh sinceramente ragazzi l'arma mi Cioè mi piace una buona arma Preferisco altre armi sinceramente Ci sono cose che mi riescono Mi riescono meglio Eh vabbè a parte il team shot Però comunque è una buona arma certo È un'arma del raid Quindi ci sta che sia buona Non è ovviamente il miglior impulsi che Possiamo utilizzare Però nemmeno il peggiore anzi Possiamo comunque farci dei buoni punteggi Ok non saprei dirvi come ho giocato sinceramente Penso leggermente peggio della partita scorsa Comunque l'arma come ho già detto è buona Ci sta per essere un'arma del raid Ho fatto No parecchio peggio della partita scorsa 24 kg 1,5 Vabbè una partita abbastanza bruttina Comunque In generale l'arma È una buona arma È un buon impulsi Magari diciamo Una variante potrebbe essere Al discorso inaugurale Una variante cinetica Che quindi ci permette Di accompagnarla anche Dalla mitaglietta energetica Potrebbe essere appunto L'icadoss SMG E detto questo ragazzi Ringrazio ancora tantissimo Xtremex che ci ha prestato il profilo E io direi che se il video vi è piaciuto Lasciatelo E commentate Condividetelo Di tutti quelli che non conoscete Che c'è la tralissima Seguici anche su Instagram Facebook come i miei video Vi lasciamo qua sotto In descrizione E anche da bellissimo Nonissimo Fatasissimo sito E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao Io sono Gaud E la tua luce È mia